Vasta e complessa operazione della Polizia Postale di Venezia, coordinata dal Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online, del Servizio di Polizia Postale e Comunicazioni di Roma, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, nell'ambito del contrasto alla pedopornografia online. Eseguite decine di perquisizioni, ma sono scattati anche arresti e denunce. Gli indagati sono accusati di divulgazione, cessione, detenzione di ingente quantità di immagini, video e foto pedopornografiche. Si tratta di una complessa attività d'indagine che ha visto impegnate le unità specializzate della Polizia Postale di Venezia. L'operazione si è sviluppata con la meticolosa analisi dei dati informatici e delle chat di messaggistica del social Kik, identificati 16 italiani che scambiavano materiale pedopornografico credendo di agire nell'anonimato. La polizia isolata la posizione dei singoli nickname, recuperando per ognuno di loro il materiale condiviso ed estrapolando le connessioni IP utili al proseguio delle indagini. I pedofili sono stati tutti identificati. Il più anziano del gruppo ha oltre 60 anni, il più giovane 23. Si tratta di impiegati, camerieri, operai, sequestrati migliaia di file. Nell'ambito dell'operazione sono stati arrestati un sessantenne di Mantua, un trentenne di Brescia, un quarantenne di Modena e un cinquantenne trentino per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico.